Buonasera e benvenuti al notiziario del Lodigiano. Apriamo con la giornata nazionale per la vita che sarà celebrata domenica prossima e che quest'anno sarà caratterizzata dal tema La misericordia fa fiorire la vita. Ci siamo recati nella nuova sede del centro di aiuto alla vita di Lodi che si trova in via Paolo Gorini per farci raccontare l'attività svolta dai diversi volontari che animano questa realtà e su quali servizi e opportunità vengono messe a disposizione per quelle mamme in difficoltà per aiutarle a far nascere e crescere il proprio bambino. La misericordia fa fiorire la vita, il titolo del messaggio per la vita 2016 che caratterizzerà la prossima domenica. Una difesa quella della vita nascente che nel Lodigiano passa anche attraverso l'attività svolta dal centro di aiuto alla vita. A Lodi da qualche mese il CAV ha una nuova e più funzionale sede. Siamo andati a visitarla. Siamo in via Paolo Gorini al 29. Le suore ci hanno ospitato in modo gratuito. Difatti la sede è molto più ampia, vasta, per noi molto più funzionale. Riusciamo ad accogliere le mamme. Abbiamo un ufficio privato dove possiamo fare anche colloqui con le mamme quando hanno bisogno di interpellarci per quanto riguarda anche magari colloqui di aborto, di problemi che loro hanno. Poi abbiamo anche un magazzino, che è quello molto ampio, vasto, che là in via San Giacomo mancava. Quindi qui ci troviamo molto bene. Parliamo un po' di dati per quanto riguarda l'anno che si è appena concluso e che cosa ci può dire in proposito? Abbiamo portato assistenza alle mamme in modo consistente e continuativo a 255 mamme con 273 bambini. Questo vuol dire che abbiamo dato alle mamme fornitura mensile di latte, di pannolini e di omogenizzati, pappe e così via. Invece in modo parziale abbiamo seguito 252 mamme. Queste invece abbiamo consegnato indumenti, vestiario, accessori come carrozzine, giocattoli e tutto quanto. A Lodi sono stati salvati dall'aborto 11 bambini con il progetto Gemma che è arrivato a nostro favore. Mentre invece i lodigiani, la comunità ed intorni hanno offerto 12 progetti Gemma. I bambini nati nel 2015 sono 1.404 a Lodi, a Codogno sono 618. Poi ci sono state interruzioni di gravidanze fatte nel lodigiano 69. A Codogno sono state 18 e a Sant'Angelo 152. Il totale di queste interruzioni sono 239. Cerchiamo proprio di consigliare alle mamme prima di fare un passo di questo genere, di abortire. Presentatevi qui da noi, venite qui da noi che trovate accoglienza, trovate amicizia. Si può parlare, discutere, capire quali sono le vostre motivazioni e aiutarvi perché ci sono tanti aiuti che voi magari non immaginate. Domenica prossima, davanti a varie chiese della Diocesi, i volontari del Centro di Aiuto alla Vita predisporranno banchetti di vendita con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere l'attività di volontariato e distribuire materiale informativo su quelli che sono i progetti importanti proposti dal CAV, quale il progetto Gemma o SOS Vita. Nella sede di Lodi di via Paolo Gorini del Centro di Aiuto alla Vita viene inoltre assicurato un servizio medico-pediatrico. Esercito il venerdì mattina, mi occupo dei bambini che presentano patologie nell'immediato quindi acute, quindi banalmente otiti, gastroenteriti, influenze che necessitano delle mie visite mediche. Prescrivo loro dei medicinali offerti gratuitamente che ci vengono forniti dal banco farmaceutico e vari progetti e donazioni. Mi occupo delle mamme nel senso appunto che le accettiamo per dei colloqui e in questa situazione cerco di andare incontro con suggerimenti e consigli riguardo all'allattamento materno e riguardo al periodo postpartum che è molto delicato in quel senso. In cantiere abbiamo due bellissimi progetti, l'apertura di uno sportello per la vita nei due presidi ospedalieri Lodi e Sant'Angelo con l'obiettivo di intercettare le madri presenti per interruzione volontaria di gravidanza e la creazione di un gruppo di giovani e meno giovani che aprano così un percorso guidato per la formazione di altrettanti giovani in fascia preadolescenziale e adolescenziale sull'educazione all'affettività e alla sessualità. L'indagine che ha portato venerdì scorso all'arresto di un dipendente del comune di Lodi è scaturita da un'iniziativa dell'amministrazione comunale. Lo ha reso noto il sindaco Simone Uggetti allo scopo di fare giustizia su una serie di commenti da parte di alcune forze politiche che hanno messo in dubbio la volontà e la capacità dell'amministrazione comunale di vigilare sul rischio di comportamenti contrari alla legge da parte del personale dell'ente. Gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria sulla gestione di alcune opere pubbliche sono stati avviati a seguito di una segnalazione del comune alla guardia di finanza avvenuta nella tarda primavera scorsa. Il comandante della polizia locale, ha spiegato il sindaco di Lodi, è stato messo al corrente da una fonte ritenuta affidabile di alcune circostanze sospette. Dopo essersi confrontato con me, il comandante ha quindi immediatamente informato la guardia di finanza che ha avviato le sue attività di indagine. L'amministrazione è stata quindi attenta e tempestiva ma ovviamente in tutti questi mesi ha mantenuto la necessaria riservatezza su aspetti che oltre a essere molto delicati sono affidati alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e delle forze incaricate di indagare. Come stabilito dalla legge nei confronti del dipendente arrestato verrà prossimamente disposta la sospensione. Nel caso in cui alla chiusura delle indagini ne venisse deciso il rinvio al giudizio il comune si costituirà parte civile nel processo. E cambiamo argomento. Sabato prossimo, penultimo appuntamento dei laboratori per la formazione degli evangelizzatori degli adulti. Per questa occasione interverrà il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti. L'appuntamento è per le ore 15 in seminario. Vescovile a Lodi. Parliamo dei laboratori per la formazione degli evangelizzatori degli adulti. Il prossimo 6 febbraio, la penultima tappa. Qual è il tema che sarà trattato in questa occasione? Allora, è un tema di forte impatto. Il tema della fragilità all'interno della vita, che ha ovviamente tanti significati, adesso dirò quali. come far sì che l'occasione della scoperta della propria fragilità non sia solo un blocco della vita, ma possa diventare l'esperienza di un passaggio. Il Vescovo Maurizio, che ci aiuterà in questa riflessione, proverà a dire come nella Chiesa, in questi anni, soprattutto ultimamente, insiste perché ogni situazione di fragilità, penso alle situazioni quelle più provocatorie, scandalose, una morte improvvisa, piuttosto che una malattia, piuttosto che una situazione di blocco dovuta alla perdita del lavoro, il trasferimento da un ambiente all'altro, da un mondo all'altro. Pensiamo a cosa non succede nella vita degli uomini e delle donne. Ecco, tutto questo, da un lato, mette in crisi la vita, ma a volte non lascia solo ferite, ma può suscitare l'occasione per scoprire che dietro la ferita c'è una sorta di feritoia, cioè c'è un passaggio per vedere qualche cosa d'altro. In questi anni i Vescovi hanno chiesto alle comunità di imparare ad accompagnare le persone all'interno delle fragilità di vita e dentro queste situazioni cogliere l'occasione di un annuncio del Vangelo, quasi recuperando quella bellissima immagine che noi credenti spesso abbiamo nella nostra memoria. Il grande Caravaggio ha voluto raffigurare un momento particolare, una vita in crisi, quella di Tommaso, che dentro la morte di Gesù perde tutti i suoi riferimenti, ma con davanti Gesù che gli prende la mano e porta la sua mano, il suo dito, alla ferita del costato, gli fa toccare questa ferita per dirgli sì è vero che sei rimasto scandalizzato dalla mia morte, ma adesso attraverso questa ferita tu recuperi un'altra prospettiva. Infatti nel momento in cui Tommaso toglie il dito dice Signore mio, Dio mio, cioè passa dall'incredulità alla fede. Questo appuntamento del 6 febbraio si inserisce, come dicevo prima, nel cammino proposto quest'anno a livello diocesano. Diversi gli incontri proposti, possiamo tracciare un bilancio di come sono andati fino ad ora? Sì, direi che sono stati incontri legati appunto dalla grande tema del Giubileo sulla misericordia, ci hanno aiutato a entrare, a sviscerare i tanti aspetti, perché chiaramente è un tema amplissimo. Da un punto di vista della riuscita, certamente l'incontro è stato, tutti gli incontri sono stati molto ricchi, i nostri relatori sono stati particolarmente capaci di aiutare le persone. Da un punto di vista numerico è sempre difficile dire quanto un'iniziativa riesce. Per noi rimane sempre un segno che va in una direzione, è importantissimo aiutare le persone a formarsi. Appuntamento, stiamo parlando del ciclo di incontri tesi 2.0. Il primo di questa serie di appuntamenti sarà per domani alle ore 17 presso l'archivio storico diocesano con Ho vissuto in versi per una ricognizione critico-filologica della poesia di Ada Negri di Anna Guerrini. E con questo è tutto. Il notiziario dell'Odigiano tornerà online domani. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti.